Siamo stasera e domani in scena con questo spettacolo che si chiama Spartaco Street View Viaggio sulla 106 ricordando la lotta di Franco Nisticò. Franco Nisticò è un uomo politico delle nostre parti, noi siamo calabresi e lui si è battuto per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della statale 106. Raccontiamo in questo spettacolo in qualche modo anche la storia di Franco Nisticò, ma non è solo quella. Noi abbiamo preso un personaggio inventato che si rifà al mito di Spartacu, l'eroe di epoca romana che si è ribellato contro il potere imperiale di Roma e quindi prendiamo questo modello di eroe che lotta per avere dei diritti e quindi abbiamo accomunato questa figura di Spartacu, l'eroe romano, Franco Nisticò e l'abbiamo messo in questo personaggio che si chiama Spartacu, che invece è un uomo contemporaneo che racconta le sue lotte quotidiane per andare a lavorare e fare questa strada statale 106 Ionica che collega Taranto con Reggio Calabria. Però è un pretesto per parlare di tutte le strade pericolose che esistono in ogni regione d'Italia, insomma nel mondo. Quindi praticamente abbiamo fatto una commissione di varie cose inventando questo personaggio ma parlando della realtà. Grazie.